buongiorno a tutti continuiamo con i nostri short video oggi vi parlo di barrette abbiamo diviso le barrette della born in due parti diciamo quelle complesse e quelle normali tra le normali abbiamo le bite size la flap jack e la extra bar le bite size sono delle barrette che come dice anche il nome in traduzione tradotto in italiano sarebbe praticamente morsino sono delle barrette da 25 30 grammi che servono essenzialmente per chi va in mountain bike o comunque va da chi fa sport che all'utilizzo delle mani limitato le mountain bike naturalmente devono sempre stare sul manubrio le mani quindi con una mano si tengono si aprono e tutta quanta la barretta va in bocca e quindi si può mangiare con calma mentre poi si continua a fare l'attività che si sta facendo si divinano le bite size in due tipi cambia il gusto una è ciocobust quindi cioccolato base cioccolato e l'altra invece base non solo cioccolato naturalmente perché non è di quelle che si squagliano comunque vada è cioccolato malto e albicocca all'interno questa qui invece è la strawberry crunch è praticamente fragola riso soffiato e yogurt questa all'interno contiene anche la vitamina b12 con vitamina b12 che sapete che agevola praticamente la riparazione di tutti i tessuti muscolari mentre la flat jack è la barretta che è nata in con diciamo sotto la supervisione del team sunweb praticamente avevano bisogno loro di una barretta che durante le corse molto lunghe quindi attività molto lunghe si parla di ultra maratone si parla di ultra trail trail lunghi e tutto quanto dopo un tot di tempo che uno fa attività incomincia avere gli stimoli della fame bene questa barretta è stata creata appositamente per togliere lo stimolo della fame o comunque vada per fare in modo che correndo non si abbia quel tipo di fastidio perché alla fine diventa un fastidio naturalmente quando si corre specialmente corse lunghe non è che ci si può fermare strada facendo a mangiare panini con la porchetta panini o pasta asciutta la carbonara o che quindi durante l'attività ben venga dopo naturalmente però durante l'attività è uno stimolo che a volte a qualcuno da fastidio la flat jack è proponata appositamente per togliere quello stimoli ok l'altra e ultima barretta di questo di questa sessione è la extra bar banana extra bar banana è una barretta molto energetica base banana con un rivestimento di cioccolato bianco e yogurt fa parte delle extra bar quindi barrete particolari l'ho messa tra queste perché le altre forse hanno bisogno di una parola in più comunque tutte queste barrete qui si possono prendere sia prima che durante l'attività